C'è te, mondo visione La è qui Focus Breath jump Perché devi saltare nel parkour Sì, ma infatti sai quanti ragazzini non mettono sulle caviglie? No È perfetto! Ma io questo la faccio Eccolo lì, con i bellissimi che va malissimo È che ti devo guardare quando arrivi, se no... Vai ciao Ciao Vai Ma la transenna Doveva saltarla, secondo voi? Maniglie bianche che più bianche non si può Maniglie Emanuele Ciao Ciao, sono un cong da fermo Ciao, sono uno stand cong Ciao Ciao Maniglie Emanuele Ciao E QB Ismaele Solo per gli ismailiani Approvi Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tieni la testa, tieni la testa, tieni la, yeah! Non lo so. Grazie a tutti. No, no, vogliamo proprio tutti guardare questo fashion blogger 75k domani. Mi raccomando, eh. Perché non gli passa davanti, Franzi, come al suo solito? Allora, Nick, allora, ti abbiamo preparato questo trick qui. Vieni, Paolo ti ha messo gli occhiali qui, vedete? Tu, tu devi staccare da qua, mettendo la mano qua, la mano, poi metti la testa, fai un front e ti infili gli occhiali. Ok? Ok? Sì, bravissimo. Hai dieci tentativi, comunque. Ciao Stefano, ti vogliamo tanto bene. Sempre peggio. Allora, adesso si firma la... Allora, io so... Ciao, sono Paolo, questo è un doppiatore inventato. Lui sta parlando. Allora, Paolo è fatto... Questo trick si chiama io sotto e lui sopra. Che sembra un po' brutto come nome. 69. Se si può mettere là così vede meglio la scena. Yeah. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Boom. Questa è la fine di questa session e ci mettiamo prossimo.